In ottica olimpica a Cortina servono una vasca di accumulo in grado di tamponare eventuali situazioni di emergenza e interventi importanti per quanto riguarda il sistema di depurazione. Mentre si discute della collocazione del villaggio olimpico e della realizzazione della pista di Bob emerge anche un altro tema di rilievo in vista del 2026 ovvero quello della gestione idrica. Sotto questo punto di vista Cortina potrebbe non essere nella migliore delle situazioni. Diciamo che ci auguriamo che Cortina possa beneficiare di fondi legati alle olimpiadi appunto anche per la realizzazione delle opere per le quali peraltro noi abbiamo già pronti i progetti esecutivi già disponibili sia per quanto riguarda la depurazione sia per quanto riguarda la realizzazione di serbatoi di vasche di accumulo e quant'altro. Sicuramente ci auguriamo ripeto che nelle prossime settimane e nei prossimi mesi ci possa essere un intervento che garantisca dei fondi legati alle olimpiadi per la realizzazione di queste opere. Cortina è come tutto il resto della provincia la cosa più delicata che a Cortina tra tre anni ci sono le olimpiadi. Il contesto provinciale è caratterizzato da una serie di investimenti in partenza per il miglioramento di una rete che presenta ancora diversi punti di debolezza. Noi abbiamo già fatto 40 gare d'appalto per mettere a terra e cominciare a realizzare il piano degli investimenti legato appunto alle ricerche a perdite per cui abbiamo ottenuto 20 milioni di fondi PNRR. Stiamo già lavorando in Comune Belluno a Castion sulla distrettualizzazione e sulla modellazione idraulica. Bisogna ridurre gli spazi tra una serie cinesca e l'altra, mettere dei misuratori di pressione e con questi andare a individuare dove le perdite sono più importanti. Inoltre stiamo lavorando per l'app di fanghi di Longarone per il quale abbiamo ricevuto anche qui un milione e 300 mila euro di fondi del PNRR. Dopodiché stiamo lavorando sull'ampliamento di Marisiga e un'altra operazione molto importante che consentirà al Comune Belluno di ridurre numerosissime vasche IMOF e piccoli depuratori assolutamente inefficienti con un potenziamento dell'attuale impianto.